Nei guai a Maratea, due sorelle di 46 e 49 anni ritenute responsabili di detenzione illegale di materiale esplodente, armi e munizioni comuni da sparo. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lago Negro e dalla locale stazione Carabinieri. Le due sorelle che vivono nello stesso stabile con le rispettive famiglie avevano stipato all'interno di una vecchia cassa di legno, riposta in un magazzino una grossa quantità di polvere da sparo, esplosivi detonanti, detonatori a miccia e micce a lenta combustione, oltre a munizioni per fucile e pistola e un fucile da caccia calibro 16. Il tutto, risultato essere del padre deceduto diversi anni fa, è stato posto sotto sequestro. Nel dettaglio i militari hanno rivenuto 2,5 kg di polveri esplosive, tra cui alcune detonanti, 6 detonatori a miccia, 17 cartucce calibro 16, 6 proiettili calibro 32 per pistola a tamburo, una confezione di inneschi per cartuccia e più confezioni per la realizzazione delle parti di cartuccia, 10 metri di miccia a lenta combustione. Una quantità così importante di materiale esplodente che ha reso necessario l'intervento di militari e artificieri in forza al nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza, i quali, al fine di mettere in sicurezza l'intera area interessata dal ritrovamento, hanno catalogato e classificato il tutto, rimuovendolo con le dovute e necessarie precauzioni, poiché un potenziale del genere, se opportunamente innescato, avrebbe provocato un'esplosione con effetti micidiali, provocando danni ingenti a persone e cose.